Molta paura, strada bloccata per quasi quattro ore ma fortunatamente nessun ferito. Questo è il bilancio dell'incidente accaduto intorno alle 12.20 di oggi in via San Francesco, tratto della provinciale 32 a Farra di Soligo. Un camion che trasportava lunghe barre di ferro ha perso per cause che ora dovranno essere accertate parte del carico finito lungo la carreggiata. Una macchina sopra a Giangeva da Farra di Soligo verso Soligo, l'autista si è accorto, perché ovviamente l'ultimo che il camion stava perdendo il carico, però è stato centrato, è riuscito a sferzare e quindi è stato sbalzato poi con la macchina in mezzo alla strada e la macchina è praticamente da buttare. Miracolosamente l'automobilista, un 45enne del posto, ne è uscito in leso. Fortunatamente l'automobilista anche in leso era molto scosso, ovviamente perché non si aspettava una cosa di questo tipo, poteva veramente essere una tragedia e ben di peggio. La strada è stata chiusa per permettere alla ditta, intervenuta con altri camion e una gru di recuperare il carico di ferro. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, inevitabili le ripercussioni sul traffico già intenso vista l'ora di punta, solo alle 16 la provinciale è stata riaperta la circolazione. Sendo chiusa la provinciale praticamente è stato bloccato completamente tutto il comune, quindi le macchine hanno dovuto transitare per laterali e quindi il traffico è stato scaricato sulla parte bassa del paese.